A Lentini l'amministrazione comunale fa sostituire le videocamere collocate pochi mesi fa in Piazza Beneventano per sostituirle con altre di tipo superiore. A che cosa è servita quindi la spesa affrontata nei mesi scorsi per l'acquisto e la collocazione in Piazza Beneventano di quelle videocamere solo per sperperare il denaro pubblico? A che cosa è servito il semaforo collocato all'ingresso di via Garibaldi quando non è stata elevata nessuna contravvenzione perché le telecamere, quelle acquistate con i soldi dei contribuenti lentinesi, non funzionavano? Anche il neoassessore al bilancio quindi si dedica alle pazze spese mentre non trova poche centinaia di euro per fare manutenzionare l'ascensore nell'abitazione della giovane diversamente abile Cristina Spitaleri che non può uscire dal secondo piano della sua abitazione perché l'ascensore esterno realizzato dal comune nel 2003 non funziona perché l'amministrazione comunale non riesce a reperire nel bilancio 400 euro per le spese di manutenzione dell'ascensore. Grazie a tutti.